e buongiorno a voi mi presento sono albino iorio la vostra guida virtuale che vi accompagnerà nel vostro tour in oman allora siete arrivati a masca per presumo se state guardando questo video siete in aeroporto state sbrigando il vostro visto cosa dirvi in merito a questo dirvi soltanto che potete pagare con la vostra carta di credito se cambiate qualche soldino cambiate giusto quello che la giornata perché tutto tipo un 50 100 euro non di più oltre la visa perché la visa vi costa 20 real al cambio in aeroporto sono circa 48 euro vi dura un mese ma siete a posto così partiamo col fatto che voi andate a prendere le valigie nel frattempo uscite e di fronte a voi troverete il vostro ufficio o mantel perché vi dico questo perché vi converrebbe farvi subito una scheda o mantel con tre real la moneta locale che al cambio è 2.4 più o meno cioè vuol dire due euro e 40 centesimi di euro un oman real con tre oman real vi comprate un numero vostro piacere ve lo fanno scegliere persino e vi danno tre real di credito in merito a questo vi posso dire che vi conviene mettere su 10 real perché con ci sono dei piccoli pacchetti di internet che durano anche una settimana con un giga o due dove potete avere internet il limitato da tutte le parti e dopo che avete fatto questo cominciamo il nostro giro e partiamo per il nostro viaggio oggi la prima destinazione è sur dove andremo a dormire il vostro hotel è già prenotato perciò sanno già che arrivate penso che con la vostra macchinina che avete preso che io sappia una yaris una toyota yaris dove inizierete il vostro giro come vi ho detto prima cambiate qualche soldino e usciamo fuori dall'aeroporto l'aeroporto prendete direzione sul tankabus matra adesso io vi aiuto col mio mouse e vi porto in giro ok praticamente uscite dall'aeroporto e entrate nella sul tankabus prendete per matra io adesso vi faccio in modo di farvi vedere dove dovete andare e io vi direi di visto che siete in mattinata presto è un orario ancora buono ed è una giornata che potete spendere per vedere anche la gran moschia di sul tankabus ve la farei vedere questa mattina qua ok si trova subito dopo questa rotonda sempre soltanto sul tankabus la trovate alla vostra destra ok quando siete arrivati nel in questa zona come vedete qua la gran moschia ve la trovate alla vostra destra subito dopo a 2 300 metri troverete un incrocio con un'uscita che ritornate indietro entrate nella nella gran moschia vi faccio vedere la moschia questa mattina perché siete vestiti comunque sicuramente ancora con maniche lunghe pantaloni lunghi perciò automaticamente potete entrare tranquillamente vi ricordo per la signora una pashmina da mettere in testa e potete ammirare la gran moschia che è una delle più grandi del medio oriente contemporanea è stata finita nel 2011 e questa gran moschia conta un primato uno degli dei lampadari più grandi al mondo che sono praticamente 32 tonnellate di swarovski ma vi lascio la sorpresa quando entrate dentro vederlo bene dopo questa questa visita della gran moschia ritornate sulla sultan kabus e rientrate in autostrada qui l'autostrada di noma non si pagano assolutamente voi non dovete spendere un centesimo per l'autostrada perché non ci sono caselli questo è quello che ha voluto sultan kabus infatti è tutto nominato a lui e proseguite per la sultan kabus al fino al primo cavalcavia prendete a destra uscite fuori da calcavia prendete a destra e proseguite l'indicazione di curiat o sur praticamente di qua salite su avete alla vostra sinistra dopo il primo incrocio avete un gran dei gran mol in questa zona e prendete l'autostrada questa autostrada qua vedete eccola qua sale su andate sempre dritti voi non vi preoccupate fino al punto di arrivare intersicarvi su un'autostrada che sale su in montagna attraversiamo le montagne passiamo dall'altra parte io adesso l'impiccivisco per fargli vedere già dove arrivate ok vedete curiat e arriviamo a sur ok eccoci qua sur questo è il vostro hotel zaki restaurant o hotel o appartamento eccolo qua vedete voi dovete arrivare qui ma torniamo indietro così vediamo quello che dovete fare nel vostro giro allora come vi avevo detto attraversate le montagne sulla strada sull'autostrada 17 ricordatevi la 17 la trovate fino a sur perciò non avete assolutamente problemi e arriviamo a un certo punto che troveremo curiat andate sempre avanti a un certo punto attraversaremo ancora una parte di montagna e siete sull'oceano indiano ancora non è oceano indiano questo qui è il golfo dell'omano arrivato a un certo punto avete una diramazione dove c'è scritto di bat un paesino dovete cercare di massing col che essi incolle e una un'attrazione una delle prime attrazione che vi farò vedere dove si trova una dolina carsica queste montagne che voi stai attraversando sono tutte carsiche perciò a questo punto vi troverete ad ammirare uno gioiellino dell'omano dove potreste anche fermarvi a fare il bagno ricordatevi che nel venire verso qua in macchina troverete gli autogrill dove potete autogrill delle zone dove fare benzina e al suo tempo comunque vengono da mangiare perciò vi conviene portarvi da mangiare dietro ok comprare dei sendi cioè quello che sei qui potete anche fare il bagno a vostra descrizione dipendete dal tempo che avete a disposizione per voi e cosa volete fare prima questa è la prima sosta della giornata ah ricordatevi le macchine fotografiche cariche di memoria sempre solo 17 continuate per altri 35 40 minuti vedete arrivate a tigui tigui è una zona stupenda dove c'è un canyon un grand canyon che potete visitare c'è kiwi e guadishab scegliete uno dei due perché tutti e due insieme farli un po casino allora guadishab come vi dicevo eh abbiamo eh guaditigo e guadishab guadishab se arrivate dopo se non fate il bagno a mh a sinkhole vi consiglio di fare guadishab se siete atleti e volete camminare perché avete da affrontare una camminata di circa un'ora e mezza nel canyon perché il canyon è questo vedete arrivate giù sulla 17 trovate le indicazioni per guadishab arrivate giù mollate la macchina qui sotto e qui da piedi prendete delle barchette che vi vi fanno passare dall'altra parte e a piedi affrontate il grand canyon il canyon è stupendo però è da fare a piedi bisogna vedere voi cosa volete fare invece se volete farvelo o guadervolo in macchina c'è guaditigo subito dopo a tre chilometri più avanti che è guaditigo dove uscite a tigui attraversate di qua e passate lungo il cane il canyon in macchina e potete arrivare fino a su in cima con la fine dove desiderate voi con la vostra macchinina tranquilli senza problemi vedete c'è un proprio una sorta di via che attraversa perciò dedicatevi il vostro la vostra mezza giornata quello che sia su questa su su uno di questi due bellissimi canyon o guaditigo e guaditigo e guadishab ok penso che siete già nel pomeriggio perciò riprendiamo la nostra 17 arriviamo verso sur quando siamo a sur abbiamo da vedere alcune cose abbiamo la laguna che è una laguna stupenda che potete fargli tutto il giro intorno nella laguna potete arrivare al vostro hotel si trova qui eccolo qua zacchi hotel appartamento vedete ricordatevi questa questa scritta ve lo mettete sul vostro navigatore così avete sempre il punto è un hotelino nuovo 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 avrà tre o quattro mesi non è di più io scelgo sempre strutture che controlliamo personalmente noi mentre siamo in giro nei nostri tour perciò automaticamente vi diamo una struttura più che idonea ecco la giornata nel pomeriggio se volete ancora vi consiglio di mangiare lì mangiate lì perché lì è un zacchi hotel appartamento è un ristorante iemenita perciò mangiate veramente bene prendete il pollo col riso che è uno spettacolo con le varie verdure verdure non avete problemi perché sono buonissime ecco poi la cosa bella da fare una bella passeggiata o anche di sera è la tutta la zona dell'antico sur che questo dove c'è il faro qua giù c'è il faro dove c'è il ponte nuovo che hanno collegato la laguna perché è tutta questa passeggiata sulla spiaggia dove potete fare delle foto stupende la laguna è soggetta a ogni otto ore dall'alto e bassa marea a svuotarsi o riempirsi in questo caso vedrete delle tartarughe spero che le vedrete qui in questo punto qua esattamente qua vedete c'è il dao factory cos'è che potete andare potete andare a visitarlo ma vi dico di andarlo a visitarlo l'indomani mattina perciò questo lo lasciamo l'indomani mattina ok la sera è bello fare un giro per vedere le luci di questo piccolissimo porto di sur che è spettacolare una cosa particolare che ce l'ha vedere ancora qui sempre vicino al zaki vicino a voi è questa grandissima darsana perché all'interno di questa darsana ci sono dei muri dove tutte le scuole di sur hanno creato dei murales giganteschi mi consiglio di andare a vedere sono molto belli da vedere una bella passeggiata di un chilometro e cinquecento metri ve lo so dire perché la faccio spesso bene vi accompagno in hotel eccolo qua ricordatevi che lo riconoscerete per un semplice fatto che si trova a fianco alla gran mosque del souk di sur perciò io vi dico buonasera e ci vediamo domani mattina per il secondo giorno insieme grazie a voi grazie a voi